Stop alla procedura di licenziamento per i 190 lavoratori dello stabilimento di Marcianise e della Jabil. L'industria elettronica, nel corso di un incontro online tra i vertici aziendali, il ministro delle imprese e la regione Campania, ha annunciato la decisione del ritiro del licenziamento. Tuttavia, nonostante questa notizia positiva, i sindacati esprimono alcune riserve riguardo alla mancanza di una soluzione strutturale alla crisi di commesse che ancora affligge l'azienda, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori. Sonia Oliviero, segretaria generale della CGL di Caserta e Francesco Percuoco, segretario della FIOM CGL, il sindacato dei metalmeccanici casertani, accolgono con favore il ritiro dei licenziamenti ma esprimono preoccupazione per l'assenza di una strategia industriale in grado di garantire un futuro sostenibile allo stabilimento di Marcianise. I sindacalisti sottolineano che l'avvertenza Jabil si protrae da troppi anni e che l'azienda, attraverso vari piani industriali, ha costantemente manifestato l'intenzione di ridurre drasticamente il numero di dipendenti del sito casertano e con l'obiettivo di arrivare a soli 250 lavoratori rispetto ai poco più di 440 attuali. La cassa integrazione è stato un meccanismo ripetutamente utilizzato per evitare i licenziamenti, incluso l'ultimo intervento a febbraio, quando la CIG è stata prorogata di tre mesi. I sindacalisti esigono chiarezza sulla discussione in corso con il Governo, lamentando di essere stati esclusi dai negoziati senza la possibilità di valutare le soluzioni proposte.